Sappiamo bene che Padre Pio è stato protagonista di tantissimi episodi di bilocazione, ed è proprio di uno di questi episodi che parla la testimonianza di questo video. Il signor Giuseppe Vitiello racconta che nell'estate del 1952 si trovava imbarcato su una petroliera che si trovava nell'oceano atlantico, quando accadde un fatto davvero incredibile. Durante la preghiera personale sosteneva il signor Giuseppe Vitiello di non trovare pace con se stesso. Una notte si svegliò di colpo e si accorse che nella sua cabina in quella nave vi era un uomo con la barba che gli rivolse le seguenti parole. Vieni a trovare, quell'uomo era un frate. Una volta sbarcato, il signor Vitiello sentì parlare di un certo frate di San Giovanni Rotondo che rispondeva al nome di Padre Pio. Mosso dalla curiosità e dal desiderio di ripulirsi l'anima, decise di andare a San Giovanni Rotondo a trovare quel frate. Durante la confessione, appena Padre Pio lo vide, gli confermò che era stato proprio lui ad apparire in quella petroliera per farlo trovare bene nella vita. Da allora il signor Vitiello iniziò un cammino spirituale e sacramentale, guidato dal santo Padre Pio che lo portò fino alle nozze benedette da Padre Pio stesso. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!